La TV è come la mafia, non se ne esce. Se non da morti, uno che conoscevamo ci è riuscito, però poi si è impiccato. Dopo la TV c'è il cinema, dopo il cinema la radio e poi la morte. Giacomo, quando tu vedi tutti questi giovani che apprezzano il nostro lavoro, Boris, che ti fanno delle domande sul cinema, su come si fa, quali sono i consigli. Cosa pensi? Qual è il tuo stato d'animo? È Lopez, questo è proprio Lopez. La mia sensazione è che le fiction sono sempre uguali, sono sempre più brutte. Non cambia nulla, la gente non ha rispetto per il pubblico, si fanno in fretta, si girano tanti minuti al giorno e l'atteggiabilità è sempre, speriamo che ci gaspino. E ti dicono scrivi per questa cosa qua e tu leggi questo oggetto, è una merda, e tu gli dici, è una merda. E loro dicono, e tu no, tu gli chiedi, ma a te piace? A me no, però negli anni sì. E questo è grave. Ma il sistema è forte, è difficile da scardinare, ma ce lo faremo. E bisogna insistere. Che è molto probabile che alla fine succederà che faremo la quarta serie. Quando un telefilm di culto approda il grande schermo, solitamente è un acciofeca in possesso di essere... Grazie a noi, grazie a noi, grazie a noi, grazie a noi! Oh yeah! Grazie a noi! Tanti auguri a noi 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 Tanti auguri a noi